Sono aperte delle palle, specialmente ai salvatoi. Perdiamo carburante ogni secondo che passa. Sarò costretto a lasciarti assurdo, mi dispiace. Va bene. Venetevi pronti con l'equipaggiamento. Lanceremo il nostro uomo dal retro di questo Beetle. Che cosa faremo? Sei pronto? Alzo a breve. Scenderò quanto più posso, ma questa è una carretta, quindi muovesi. Oh, figlio di Zuzana! Dieci secondi. Andiamo! Buona fortuna, Marine! Stai attento, figlio! Appresso la tua gioia nel vedermi, Alcatraz, ma dovrai procedere con cautela. Lockhart ha seminato per l'isola le sue forze sceglie. Io ti guiderò come meglio posso, ma la mia visuale da qui è, diciamo, fortemente limitata. Acce di ero, Svelde, Ailand, il ci... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.